Come faccio a superare una paura del denaro? Superare la paura del denaro può essere difficile, ma se vuoi farlo, dovresti affrontare la paura. Invece di evitare le bollette e altri problemi di denaro, dovresti affrontarli immediatamente e la paura finirà per ridursi. Educare te stesso sui soldi e su come funziona può anche fare molto per eliminare la paura del denaro. L'utilizzo di affermazioni tecniche e di visualizzazione può anche aiutare alcune persone a superare la paura del denaro. Molte persone soffrono di paura del denaro. Questa paura deriva in genere dall'affrontare una mancanza di denaro e non essere in grado di permettersi certe cose. Se vuoi essere in grado di eliminare questa paura, dovrai affrontarla a testa alta. Invece di cercare di allontanarti dalla tua mente o di evitare la situazione, dovresti affrontare la tua paura. Molte volte, quando le persone si costringono ad affrontare questa paura, scoprono che non c'è molto da fare. Affrontando la paura e affrontandola, l'individuo può eliminare molti dei sentimenti presenti. Invece di evitare le bollette e il debito, determinare esattamente quanto devi emettere in atom piano per attaccarli. Molte volte, la paura è un prodotto dell'ignoranza. Le persone tendono a temere cose che non capiscono. Questo vale anche per la paura del denaro. Se hai paura dei soldi, è molto probabile perché non capisci come funziona. Per risolvere questo problema, dovresti dedicarti alla formazione sul denaro. Leggere libri sul denaro e sulla pianificazione finanziaria può essere un buon primo passo verso l'educazione. Potresti anche decidere di frequentare un corso di pianificazione finanziaria o un seminario. Ci sono molte risorse che puoi accedere online per aiutarti a conoscere i soldi e come accumularli. Oltre a istruirti a affrontare il problema, potresti anche utilizzare le affermazioni e le tecniche di visualizzazione per ridurre la paura. Molte persone usano il potere delle affermazioni per aiutarle a superare certe abitudini e paure. Ripetendo un mantra sul denaro, puoi cambiare il paradigma attualmente presente nel tuo subconscio. Attraverso la ripetizione, le idee che hai sul denaro cambieranno e non avrai più paura. Puoi anche visualizzarti ripetutamente con i soldi e i sentimenti di paura associati al denaro. presto se ne andranno.